A livello di vuoto, dove la materia non è ancora data, perché adesso vediamo come si dà in un attimo, e dove il tempo e lo spazio non ci sono ancora, perde di consistenza la correlazione causa-effetto, il principio di causalità lineare, quindi l'effetto che viene dopo la causa. La cosa interessante è che c'è l'autoconsistenza, cioè dove a livello olografico, a livello di vuoto, tutto è coappartenente, tutto è coesistente, e quindi tutto è feedbackabile con tutto. Non posso parlare di un tangent perché non ho tempo. Allora, questa è la slide che vorrei vedere, voi dite, c'è un errore nella diapositiva? No, io ho fatto vedere, si sto mettendo una figura che passa dall'infinito nero, al nero insomma, al bianco. Attenzione a non mettere delle righe, dei livelli, va benissimo parlare di retroscena, va benissimo parlare di piano implicato alla David Bohm, ma non mettete una riga tra piano implicato e piano esplicato, tra retroscena e scena, perché se mettete una riga avete perfettamente separato fisica da metafisica. Sono coappartenenti, cioè io faccio questa domanda, ditemi dove inizia il bianco, andando dall'alto verso il basso, non trovate un punto dove inizia il bianco. Ditemi dove finisce il nero, non lo potete sapere. Ecco, in questo stesso rapporto dialettico dovete intendere il vuoto e la materia. Allora, in questo senso, io purtroppo concludo dicendo, non ce l'ho fatta fare una riflessione sull'epistemologia come volevo, ma insomma, viviamo costantemente nel paradosso di Zenone, cioè le cose sono contemporaneamente se stesse, in un certo senso, e finite, e contemporaneamente infinite. Cioè, io approssimativamente, questo bicchiere posso dire che ha un inizio e una fine, ma se vado a vedere veramente è un'approssimazione, perché se vado a vedere molto da vicino, le ultime cose che trovo ai margini del bicchiere sono dei pacchetti gaussiani che decadono esponenzialmente, e finiscono all'infinito, quindi si interpenetrano con i miei pacchetti, con quelli del microfono, con i vostri, con quelli del computer. Quindi c'è posto per il paradosso, dimostro solo questa cosa, distinguere la metafisis viene ovunque vi sia un processo di descrizione, un processo di logica, perché la logica è un metodo descrittivo dove deve prevedere un'oggettivazione, dove quindi un soggetto si deve alienare, si deve tirare fuori da un oggetto. Ma a livello reale il meta e il fisi sono assolutamente copartenenti, guardate qua per esempio, non leggere qua, è pazzo questo. No, allora, io effettivamente a livello informazionale, io ho un livello che è il contenuto, l'istruzione operativa, non leggete lì, e ho un metalivello che è il codice con cui vi do questo contenuto, che è la scrittura. Bene, vedete che voi per obbedire a questa istruzione dovete infrangerla. Io sto, voi dite, guardate che dovete rendervi conto della fisicità che ha questa cosa, fisicamente sta accadendo un paradosso, fisicamente sta accadendo una coappartenenza di livello e metalivello, fisicamente c'è una connaturazione dialettica, quindi io posso semplicemente, arbitrariamente, separarli. Ma allora il problema dov'è? È il pensiero logico. Se io utilizzo il pensiero razionale come unico strumento ermeneutico per decodificare la realtà, non arriverò mai alla verità. Perché? Perché non si può appunto identificare vero con oggettivo. vero è ciò che è reale ed effettivamente la verità è la realtà. Non potrebbe essere altrimenti, ma per lo stesso motivo per cui se io separo un soggetto, la realtà non è più completa perché manca di una parte e la verità trovata sarà parziale, io non posso dirla quella verità, posso solo esserla. Ok? Quindi, adesso concludo, Eraclito già disse, dovete far riconoscere, simballein, ecco la realtà analogica, perché coscienza analogica? Analogico nel senso di simbolico, simballein nel senso di compositivo, compositivo nel senso di ricomponiamo l'episteme, ciò che si dà da sé, quello che la scienza, secondo la vecchia definizione, può incogliere, e la doxa, ciò che è fluttuante, incostante, soggettivo. Non possiamo mettere questa cosa nel non vero o nel metafisico, perché creiamo un disastro, impediamo la possibilità della connessione. Ecco, la connessione però, la coerenza ci dimostra che è una cosa che fisicamente è consistente, fisicamente è necessaria, fisicamente è possibile. Sarebbe bello che la gente smettesse di credersi un io. Lacan diceva, è certamente pazzo colui che si crede a Napoleone, ma è ancora più pazzo un re che si crede di essere un re. Cioè, io è una definizione, è una rappresentazione, è una descrizione, in realtà non c'è nessun io, c'è un qualcosa che si arriccia e si increspa, e da origine, questo campo, ha delle rappresentazioni, dei corpi, delle cose che noi intendiamo identificabili. Che cosa dice il vuoto? Non c'è isolabilità, non c'è nessun ente che esiste in sé. Questo è quello che la fisica quantistica deve consegnare. Purtroppo non mi fanno proseguire ulteriormente, avrei delle cose da dire, ma... Grazie. 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 Grazie.